Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, in questo video volevo informarvi di un possibile indizio che ci ha fatto capire la Rockstar Games riguardo il prossimo DLC che sarà rilasciato su GTA 5 Online probabilmente a sorpresa nel mese di marzo in quanto come sapete tutti a marzo chiudono i trasferimenti degli account. Se vi ricordate una settimana fa sul canale avevo caricato un video dove ho mostrato il post rilasciato tramite il proprio account twitter del modder yan2295 che secondo lui nel prossimo DLC di GTA 5 Online la Rockstar rilascerà dei veicoli speciali. E quanto pare il modder ha ancora ragione in quanto nell'evento che ha rilasciato ieri la Rockstar Games su GTA 5 Online ci sono parecchi sconti e bonus ma tutti che riguardano il DLC stante o meglio riguardo tutte le cose stante. E guarda caso l'unico sconto che non c'entra niente con il DLC stante riguardo gare, stante eccetera eccetera è il magazzino per veicoli speciali. Questo ragazzi non c'entra nulla con il DLC stante eppure la Rockstar ha impostato lo sconto del 25% sul magazzino per veicoli rilasciato tramite il DLC import export. Questa cosa è molto strana in quanto quell'evento è dedicato alle gare stante di GTA 5 Online infatti il magazzino per veicoli con il DLC stante o comunque sia con le gare stante non c'entra un bel tubazzo di niente. Come sappiamo dal 7 marzo non sarà più possibile trasferire il proprio account di GTA dalle console old gen alle console next gen. E vi dico subito che il 7 marzo anche se accadde di martedì non è possibile che la Rockstar rilasci questo DLC a sorpresa in quanto già rimuovono i trasferimenti. Poi il 7 marzo c'è ancora l'evento attivo in quanto questo evento terminerà il 13 marzo non il 14 guarda caso il 14 è il giorno martedì. Questo ci fa capire che la Rockstar Games avrà in mente di fare qualcosa o comunque sia di rilasciare qualcosa. E dato che ormai tutti sappiamo cosa dovrà uscire o almeno si presume sicuramente martedì 7 marzo la Rockstar Games evolverà un aggiornamento del social club che rimuoverà le opzioni di trasferimento o comunque sia di collegamento degli account dalle console old gen alle console next gen. Per poi rilasciare il prossimo DLC nei futuri martedì. Non sappiamo bene di preciso cosa uscirà nel prossimo DLC. Secondo Modder usciranno dei veicoli speciali. Non so se usciranno altri magazzini per veicoli o cose simili. Se magari il magazzino che abbiamo comprato si allungherà e si apriranno degli spazi per aggiungere nuovi veicoli speciali. Questo ragazzi non lo so però comunque sia ci sarà sicuramente qualche attività da svolgere per sbloccare questi veicoli speciali sul sito per pagarli di meno con il prezzo scontato della SecuroServe come il DLC Import ed Export. Sicuramente faranno qualcosa di simile come proprio il DLC Import e Export. Magari non sarà uguale però sarà sicuramente qualcosa di simile. Magari avremo una nuova modalità competizione svelata tramite dei codici che ha scoperto il Modder tramite uno screenshot di cui vi ho informato in un video precedente. Comunque sia troverete nella descrizione sotto questo video tutti i video che sono collegati praticamente a questo video insomma. Appunto se non l'avete visti vi invito a guardarli. Per il momento tutto ciò che sappiamo è questo. Se ci saranno altre novità informazioni come al solito ve le porterò sempre sul canale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui social network. E da Orko vedete tutto lo ci vediamo al prossimo video. Bella 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 Bella